A Davola, in provincia di Sirecusa, Laura Gialli ha incontrato Don Fortunato di Noto, pioniere nella lotta alla pedofilia, fra i primi 15 anni fa a denunciare la vergogna della pornografia minorile in internet. Oggi la sua associazione METER conta 15 sportelli in tutta Italia e 300 operatori promuovendo i diritti dell'infanzia a tutto campo. È una chiesa di periferia quella dove Don Fortunato di Noto fa il parroco da 13 anni. Siamo nel profondo sud da Avola, in provincia di Sirecusa. Quando arrivò qui lo accolse la pietrata. Oggi non solo è rispettato, ma da molti anche amato. Grazie a lui infatti questo ospito d'Italia ha conosciuto in tutto il mondo. Don Di Noto è stato il pioniere della lotta alla pedofilia. Il primo che 15 anni fa denunciò gli errori che circolavano nel web. La sua storia è stata raccontata da Newsweek nel 2001 e viene anche studiata in un'università di Pechino. Quando c'è fu l'avvento della nuova tecnologia ho visto per la prima volta le immagini pedopornografiche e loro devo fare una scelta. O occuparmi di bambini, iniziare a gridare per loro, dare una speranza, oppure voltarmi indietro e farli indifferenti. Ormai il suo operato è riconosciuto a livello internazionale. Premi e diplomi si moltiplicano e si intensifica sempre più la collaborazione con polizie e magistrati di vari paesi. Ma gli inizi non sono stati facili. Cosa le ha fatto più male? L'indifferenza, l'isolamento e soprattutto il fatto di non aver avuto fin dall'inizio il sostegno anche istituzionale. A volte anche un po' con prudenza la Chiesa mi vedeva un po' distante. E allora da lì sicuramente è stata forse la capabilità, forse il fatto di aver visto troppo dolore che mi ha portato sempre di più a continuare. A convincere a non lasciare perdere sono stati i suoi collaboratori con i quali ha fondato METER, l'associazione presente in Italia con 15 sportelli e oltre 300 operatori. Il suo obiettivo è promuovere i diritti per l'infanzia. Centinaia le telefonate al numero verde, decine e progetti finanziati, tra questi l'adozione di una scuola di periferia. Ad esempio abbiamo organizzato l'opera dei pupi o un corso di decoupage per i bambini proprio per rendere più piacevole la loro presenza all'interno delle mura scolastiche. Ogni estate organizziamo il cineformo sui diritti dell'infanzia. Ancora METER ha realizzato un fumetto, il fumetto raccontarsi, in cui si parla di pedofilia senza però traumatizzare i bambini. Spiegare senza spaventare è fondamentale, ma ancora più importante è non dimenticare. Proprio per questo Don Di Noto per la dodicesima giornata dei bambini vittime di violenza, sfruttamento e indifferenza, ha realizzato questo cartellone. Ognuno di questi bimbi è stato stuprato, sediziato e infine ucciso. Un olocausto silenzioso. Sono 158 milioni nel mondo i minori viola. Due milioni di questi finiscono su internet per il piacere dei pedofili che pagano fino a 500 euro una loro foto. Immagini crudeli a cui non ci si abitua mai. Se non mi aggrampassi a Gesù Cristo, che mi dà la forza di poter dare una voce, una speranza e anche a me una consolazione, ecco io credo che veramente impazzirei. Perché di fronte al dolore, a questo tipo di dolore, a questo tipo di violenza, non c'è altro che impazzire. Perché una persona tra virgolette normale non riuscirebbe mai a elaborare una così tanta violenza. Ciò significa che veramente chi compie questo tipo di violenza ha perso il senso della propria esistenza, il senso dei rapporti umani, il senso della dignità dell'uomo, il senso della relazione. Forse ha perso totalmente se stesso. Creare una coscienza collettiva è indispensabile per sconfiggere questo orrore. In questi anni molto è stato fatto. Le famiglie sono più consapevoli e le nostre leggi sono all'avventura guardia. Ma bisogna mantenere alta l'attenzione, monitorando la rete, ricordando che la pedofilia è sempre comunque un reato. Internet permette che individuano i responsabili. Ormai oggi la Polizia Postale delle Comunicazioni in Italia, ma soprattutto anche l'Elo Mondiale, chiunque divulga, detiene materiale è facilmente individuabile. Ovviamente poi, in un giusto processo, bisogna verificare le responsabilità penali. Dall'altra parte bisogna alzare il livello, c'è chi sono i produttori. Scoprire puniere colpevoli è fondamentale, ma altrettanto lo è recuperare le vittime. Un percorso lungo e difficile, ma possibile, come dimostra l'esperienza di me, con i suoi 600 bambini salvati. Mi ricordo ancora oggi quella ragazza che bussiamo alla porta con le forze di polizia per individuarla, per dire, ecco, questa è lei. Mi apre la porta e mi dice, ti aspettavo da 15 anni, oggi mi hai dato la libertà e la dignità di essere ancora una donna. E con questo credo siano le cose più belle, che per la prima volta sto raccontando, perché non è facile raccontare con questi segreti così belli, ma possono diventare un'occasione di poter dire, ce la possiamo fare, è possibile. Non so se volete ancora rimanere ad ascoltarmi, perché credo che stasera vivremo un po' insieme un grande dono, quello di poter vivere grandi emozioni con gli affetti, grandi riflessioni con l'esperienza vostra personale, la vostra sensibilità, le vostre corde del cuore che possono sicuramente vibrare e cercare di andare oltre quello che spesso leggiamo tra le righe dei giornali. Ecco, qui stiamo parlando veramente della vita e della vita degli uomini. Allora per questo è importante la comunicazione, la bellezza del comunicare, il senso delle parole, il senso delle vere parole che possono sicuramente arrivare al nostro cuore. Io non sono venuto qui, però io dico col cuore come esperto, come tecnico, come solo un semplice uomo, un cristiano, un prete, ecco che si è imbattuto nella propria storia personale e nel dolore dei bambini e soprattutto anche attraverso le nuove tecnologie, con le ne parleremo così in breve, poi alla fine vorrò vedere un bellissimo spot, che è una cosa molto bella, anche di aiuto alle famiglie. E dall'altra parte voglio solo raccontare un po' l'esperienza, quello che dirò è frutto dell'esperienza. Un uomo ha valore nella misura in cui racconta ciò che vive, non ciò che legge soltanto. La lettura deve portarci a operare poi, a andare oltre. Allora la parola credo sia importante e fondamentale. Questa bellissima immagine che ha condotto anche un po' la chiesa italiana nell'ultimo periodo, in aprile, per quanto riguarda la comunicazione. Ecco l'atto creativo di Dio è un atto comunicativo. Non voglio fare qua proserichismo, ovviamente io sono un prete e un cristiano e credo in questo la mia identità e spero che possiamo rispettarci anche se c'è qualcuno qui che non crede, che ha un'altra visione della vita. Quello che ci deve accumulare è questa passione per l'uomo, dove che poi si snoda anche attraverso la fede per chi la può vivere e la incontra. L'atto creativo di Dio è un atto comunicativo e noi senza parola non possiamo vivere. Vi faccio solo un esempio, già da ora. Immaginate quando noi ci pisticciamo, quando noi ci scorniamo, che cosa facciamo in famiglia? Ti tolgo la parola. Non ti parlo più. E questa è la più grande punizione, in non parlarsi più. Perché il parlare è creativo. Il parlare fa di tutto per comunicare qualcosa di importante. L'atto creativo di Dio è anche l'atto creativo o generativo dell'uomo. Noi vogliamo comunicare, immaginate queste... vi invito anche a guardare un po' le immagini che ci aiutano un po', se potete. Abbiamo pensato che era una pubblicità del cordone ombelicale, della donazione del cordone ombelicale. In effetti è vero, è tutto ciò che è comunicazione da vita, la parola da vita. Immaginate quanto questo imbrione, chiamiamolo imbrione, il brumulo di cerchio, li chiamate come volete, per me è un bambino, quanti canali ha? Il suo cordone, il cordone che lo lega una madre. Il suo cordone è il cordone che lo lega la vita. Il suo cordone è il cordone che lo lega la società. Una madre comunica non solo ciò che è, ma ciò che anche respira, ciò che anche vive, anche culturalmente parlando. Un bambino diventa tale nella misura in cui, diventa persona nella misura in cui assorbe, vive tutto questo.